Avast Life aderisce con orgoglio all'Age Open Week contro la violenza sulle donne promossa da Fondazione Onda. Crediamo nell'importanza di fare cultura su un tema di cui si parla molto, ma non si interviene abbastanza. La violenza ha molti volti. Dobbiamo impegnarci tutti con risolutezza. Aiutare le donne perché trovino il coraggio e la forza di chiedere aiuto per uscire dal vortice dell'angoscia è un atto prioritario. Noi donne siamo penalizzate dalla mancanza di strumenti e molto spesso dalla libertà economica. Questo rappresenta una barriera. Il nostro impegno come Avast Life insieme a Fondazione Onda e molte altre aziende è alimentare una voce collettiva sempre più presente. Fare cultura è davvero una priorità.